Grazie a tutti. E' il sintomo e la prova della regressione del movimento. La chiarezza non è un obiettivo, è il punto di partenza. Perché il Movimento 5 Stelle è andato a finire in un gruppo che accoglie un nazista antisemita e nessuno pone una domanda perché è vietato parlarne. Ma dico, ragazzi, e io devo andare a chiedere a questi quattro disgraziati, scusate alla Romana, detto alla Romana, con affetto. A questi quattro disgraziati devo andare a chiedere, che chiedono scusa a me, quando conosco persone che hanno dato l'anima per il movimento, che per il solo fatto di aver osato, osato, chiamare Gianroberto e chiedergli. Senti un po', io voglio dei chiarimenti su sta stronzata che state facendo con messora a Bruxelles. Si sono ritrovati licenziati, espulsi dal movimento, minacciati... ...